Cari ascoltatori di Radio Pugino NER, in questo episodio affrontiamo una tragedia che colpisce la Spagna e commuove tutta l'Europa. Parliamo dell'alluvione devastante che ha travolto la comunità valenziana e altre regioni del sud e dell'est del paese, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e dolore. La situazione è drammatica. Finora si contano almeno 95 morti, tra cui quattro bambini, purtroppo decine di dispersi. Le strade trasformate in fiumi impetuosi hanno intrappolato persone nelle loro auto e nelle loro case e le immagini che arrivano da città come Utiel, vicino Valencia, mostrano veicoli trascinati via dalla forza dell'acqua. Ma ripercorriamo i dettagli di questa catastrofe per comprendere la portata della situazione e le difficoltà affrontate in queste ore dalle autorità locali e nazionali. Il numero dei decessi, attualmente confermato in 95, è in costante aggiornamento, mentre il bilancio dei dispersi rimane ancora incerto. Il ministro per le politiche territoriali, Angel Victor Torres, ha dichiarato che il governo non è in grado di fornire dati precisi sui dispersi, sottolineando come questa incertezza rifletta l'immensità della tragedia. La regione più colpita è proprio quella di Valencia, dove sono stati recuperati 92 corpi. Un'altra vittima è stata registrata nella provincia di Malaga, mentre altre due in Castilla e La Mancia. L'intera comunità è il lutto e il governo spagnolo ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime di questa alluvione che ha colpito duramente famiglie e intere comunità. Di fronte alla gravità della situazione, la comunità valenziana ha istituito un numero di emergenza per aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari. Chiunque non abbia notizie dei propri familiari può contattare il numero 900-365-112. Al momento la Farnesina ha confermato che non risultano italiani tra le vittime e il ministro degli esteri Antonio Tajani sta monitorando da vicino la situazione, invitando i connazionali a rivolgersi all'unità di crisi per qualsiasi esigenza. I soccorsi sono in azione senza sosta. La Guardia Civil è intervenuta per salvare le persone bloccate dall'acqua per aiutare ad evacuare le zone a rischio. Tuttavia le operazioni di soccorso sono rese estremamente difficili dalla forza delle correnti e dalle condizioni meteorologiche ancora avverse. Le inondazioni non solo hanno portato via vite umane ma hanno anche paralizzato i mezzi di trasporto della regione. All'aeroporto di Valencia molti voli sono stati cancellati o dirottati mentre l'operatore ferroviario nazionale ADIF ha sospeso il servizio ferroviario nell'intera regione fino a nuovo ordine. In Andalusia un treno con 276 passeggeri è deraiato, fortunatamente senza provocare feriti. Un evento che evidenzia l'estrema pericolosità delle condizioni attuali. Per garantire la sicurezza pubblica tutte le scuole della regione di Valencia oggi resteranno chiuse, così come i giardini pubblici, mentre sono stati annullati tutti gli eventi sportivi. Le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla regione sono tra le più intense mai registrate in Spagna. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, nell'arco di 24 ore sono caduti ben 445,4 litri di pioggia per metro quadro. 445 litri di pioggia per metro quadro. Una quantità record dal 1966. Quando a Taverne della Val si registrarono 500 120 millilitri al metro quadro in un giorno. Questa è la cosiddetta Dana, un fenomeno atmosferico di depressione a livello alto che provoca forti precipitazioni e che ha colpito duramente il Levante Spagnolo. Al momento si prevede che le piogge continueranno fino a giovedì, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso e rendendo incerto il futuro di molte persone rimaste isolate o senza casa. Dunque è caduta la pioggia in 24 ore che in genere cade in un anno. Non sono mancate le reazioni dalle più alte cariche del governo e dello Stato spagnolo. Il capo del governo, Pedro Sanchez, ha espresso il suo X, il suo sostegno alle famiglie colpite e ha invitato la popolazione a seguire attentamente le istruzioni delle autorità locali e a limitare gli spostamenti al minimo. Un pensiero toccante giunto anche dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha espresso al re Filippo VI il suo cordoio per la tragedia in corso. In conclusione siamo di fronte ad un dramma che non lascia indifferenti. Queste le immagini strazianti che ci arrivano di città sommerse, di vite spezzate, ci ricordano quanto sia fragile l'equilibrio che ci permette di vivere le nostre vite quotidiane. Non ci resta che esprimere la nostra vicinanza, la nostra solidarietà al popolo spagnolo e come sempre riflettere sull'importanza di prevenire, dall'addove possibile, eventi così devastanti, anche iniziando a parlare di più del cambiamento climatico. Cari amici vi invito a continuare a seguire Radio Puginon Air per tutti gli aggiornamenti su questa e altre notizie. Restiamo uniti anche se a distanza, non dimentichiamo di fare la nostra parte e io vi aspetto nel prossimo episodio di Radio Puginon Air.